chiude sto frigorifero gran camorrea che si si è una camorrea si una non può stare un poco tranquilla no veramente non lo so il tempo che finisco di lavare i piatti e lo guardiamo per chiù il frigorifero la per chiù e la che cosa c'è che non c'è niente non c'è niente acqua c'è no io veramente non lo so signori miei non ne so l'occhiale non ne posso trovare non so chi se no io veramente le cose che sento dei yogurt vedi ho capito non c'è niente signori c'ho due yogurt miei si mangia io si mangia la cuscia come se fossero chissà che cose ma che stiamo scherzando dico io io per ora la ho commesso un rosetta e mi sa che come una guai che ora la devo pedinare la devo pedinare perché secondo me lei pensa troppo male di suo marito che è una brava persona e ora io penso maledetta a così va a finire amici del tubo oggi è lunedì buon lunedì a tutti ah che sogno fatta la stasa però sogno fatta la stasa non saluto ma perché non si alza una mattina con l'idea di andare via di farsi un viaggetto di andare magari io ho una figlia a Torino se ne va a Torino lì ci prenotto il volo che gioca a questa picca che gioca a questa quattro euro che gioca a può volare può volare può volare può volare ai 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 signori miei io penso di trascorrere il resto della mia vita tranquilla cioè se io devo fare la vecchiaia qui no 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 non ci riesco non ci riesco avevo comprato tutto io tutte cose smontabili ve ne avevo parlato che io tutte cose sotto la scala tavolinetto libro di firma tutte cose e tu chi è? b b b b e vabbè non fa niente l'unico che mi dà compagnia e pochi con mattemente è il mio cane virillo è l'unico veramente che non per dirlo ogni tanto voi sapete lui non è è un pasticcere ogni tanto mi fa tutte le decorazioni a terra mi fa trovare la cassatina nel salone il profiterol in cucina insomma ballassano dolcette e ne capiamo ma intanto che bisogna fare eh 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 la è maluzza a dire un nega se può e questo c'è signori miei tutto qua tutto qua ok ringrazio sempre chi sostiene questi video chi manda un super grazie ve lo dico veramente di cuore grazie perché date una mano al canale a andare avanti nel senso di pagare quelle piccole spese che magari ci vuono per poter fare questi video e queste cose qua io vi ringrazio di cuore veramente ok che un nega io cioè un nega se fa solo mancia mancia e balsa e non sa fare la cosa capito tutto qua tutto qua e il compleanno della signora Rosanna domani ora ci preparo un ciambellone con 74 uova cia va bene le vunci raccossè cioè scrivete sopra auguri ce la do al signor Nino io mi vedrò con lei e quindi se la mangerà se la mangerà e lei ha detto sempre io amo il ciambellone che fa lei e non ti preoccupare cosa ti faccio a bere io che finalmente lo mangi e dirai è vero buono è vero buono dico 74 uova esagero quello là lo faccio solo prima pariente ci faceva lo faccio giusto ci faccio giusto perché merita sa che sia una mia età capito e suo marito con mia età ma io da mia età è così giusto dobbiamo dire capito tutto qua che non dimentichiamo che il signor Nino è quello che signori miei ho matrimonio un buon venere perché è speloiccio non ha voluto fare il regalo e allora è stata a casa non è che io dimentico ok quindi tutto qua io signora così le cose non le dimentico sono direttamente così allora signori miei ancora qua siamo combinati qui in Sicilia oggi 7 ottobre scollacciati che devo dire mi auguro soltanto che possa esserci un po' di pioggerella giusta senza fare danni e esserci le minestre pasta con gli sparacelli se così cacche non se ne verano e speriamo bene per tutti vi auguro una buona giornata una buona serata una buona notte quando voi vedete questo video vi auguro tante cose belle alla prossima grazie a tutti